abdia visione di abdia così dice il signore per edom ho inteso un messaggio del signore e un messo è stato inviato tra le nazioni in piedi marciamo contro di lei alla guerra ecco chi rendo piccola tra le nazioni tu sei disprezzata al massimo l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannata chi abita nei crepacci della roccia chi ha posto in alto la sua dimora ripete in cuor suo chi mi trarrà giù se tutti innalzi come l'aquila e se tu poni il tuo nido nelle stelle di lassù ti faccio scendere oracolo del signore se i ladri penetrano dentro di te o gli scassatori notturni come stai tranquilla non rubano forse quanto loro basta se i vendemmiatori vengono in te non ti lasciano almeno i graspugli come è stato frugato esaù rovistati i suoi ripostigli ti hanno ricacciato fino alla frontiera tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato ti hanno sopraffatto i tuoi amici i tuoi commensali ti tendono agguati in lui non c'è intelligenza in quel giorno dice il signore non cancellerò forse i saggi di edom l'intelligenza dalla montagna di esaù i tuoi eroi saranno presi da panico teman perché ogni uomo sia cancellato dalla montagna di esaù per il massacro per la violenza contro tuo fratello giacobbe ti ricoprirà la vergogna e sarai estirpata per sempre il giorno in cui te ne stavi in disparte gli stranieri depredavano ogni suo avere e stranei penetravano dentro le sue porte e gettavano la sorte su gerusalemme tu pure eri come uno di loro non dilettarti del giorno di tuo fratello del giorno della sua sventura non gioire sopra i figli di giuda nel giorno della loro rovina non spalancare la tua bocca nel giorno dell'angoscia non oltrepassare la porta del mio popolo nel giorno della sua sventura non dilettarti tu pure per la sua disgrazia nel giorno della sua sventura non stendere la mano sopra i suoi beni nel giorno della sua angoscia non ti mettere sulla breccia per massacrare chi cerca scampo non fermare chi cerca di evadere nel giorno della calamità perché è vicino il giorno del signore contro tutte le nazioni quello che hai fatto sarà fatto a te le tue azioni ricadranno sulla tua testa sì come avete bevuto sopra il mio santo monte così verranno tutte le nazioni per sempre verranno si inebrieranno diventeranno come se non fossero mai state ma sul monte sion vi saranno superstiti e sarà un luogo santo e la casa di giacobbe si impadronirà di quelli che l'hanno occupata la casa di giacobbe sarà il fuoco la casa di giuseppe la fiamma la casa di esaù sarà stoppa la incendieranno e la divoreranno non rimarrà un superstite alla casa di esaù il signore ha parlato quelli del negeb occuperanno la montagna di esaù quelli della sefela terra dei filistei occuperanno il territorio di efraim e la campagna di samaria e beniamino occuperà il galad gli esoli di quell'esercito i figli di israele occuperanno canaan fino a sarepta e gli esoli di gerusalemme che sono in sefarad occuperanno le città del negeb saliranno vittoriosi al monte sion per giudicare la montagna di esaù e dal signore apparterrà il regno